Cavalli che vanno a partire, solo femmine, miglio, non corre il re da Vald, sono rimasti indietro l'uno fuori gara e il nove che non prende il trotto. Macchina che stacca. Riva par con al largo Ransom of Lions che passa. Riva par che concede strada alla rivale. Sulla prima curva Ransom guida Riva par nella sua scia. 14-2-200 e Riva par sposta prontamente e va su Ransom. Terza posizione c'è il 2 di Raisa Regal, precedere Red Mile of Lions. Sulla prima curva sta passando, Riva par completa i 400 in 33. Ransom la segue. Terza posizione per Raisa. Ancora Red Mile, precedere Rapsody Griff. Per corsi esterni è rimasta Rita Red. 600 in 45 e mezzo. Prosegue a buon ritmo la Bartali ok di Gaetano Di Nardo. Da centro gruppo prova a muoversi Re Sif dei Grippi. Tenta una non facile risalita. Mentre davanti la leader completa 1-1-8 gli 800. Riva par che accelera Ransom che sembra un po' in difficoltà a seguirla. Allora muove Raisa Regal in anticipo sul Red Mile. E Raisa passa seconda mentre Riva par raggiunge al chilometro di gara in 16-9-15-1 il paletto. Raisa è lì, poi Red Mile. Dal gruppo prova ma poi sbaglia a Re Sif. Curva finale con Red Mile che prova ad avvicinare la leader che mantiene una lunghezza su Raisa e la stessa Red Mile. 15-2 il paletto. Riva par ora è sostenuta per reggere Red Mile che ci crede a largo. Dietro le due Raisa. Riva par di dentro sotto frusta. Red Mile che insiste a largo. Sta passando. Red Mile. A largo arriva anche Raisa Regal ma Red Mile of Lions con Claudio Di Filippo. Un bacio e un saluto al cielo al padre Pierino. 11-3-12 Red Mile of Lions. Claudio Di Filippo. 2-2 per una vittoria netta e anche meritata di Red Mile of Lions. 1-16-6 per la Southwind Vernon per i colori della signora Rosanna Manzo. Luca Fiero al training e Claudio Di Filippo alla guida. È tutto per la settima Red Mile che precede le due favorite. Riva par e Raisa Regal. Grazie a tutti. Grazie a tutti.